Buonasera, buonasera e benvenuti ad un'altra puntata di Maremma a memoria. Ricordate che cosa vi ho detto nella puntata nella quale abbiamo parlato di Piazza della Palma? Che vi avremmo sorpreso oggi, cioè la puntata successiva, perché? Perché avremmo parlato di un qualcosa della quale voi nemmeno lontanamente potevate immaginare di che cosa veramente fosse. Bene, oggi parliamo del biscotto Maremmano, un biscotto non per fare trustecche, il biscotto vero, quello che si mangia, che si gusta, ed è il biscotto salato, noi si chiama di Roccalbegna. Io ho insegnato a Cenigiano e l'ho mangiato anche a Cenigiano, ci sono anche a Montorgiali per esempio, fanno, so che fanno questo biscotto, però è un biscotto, non so se è docche ancora, oppure se c'è la denominazione di origine, ma io credo che siamo sulla strada per chiedere. E con chi ne parlo? Ma con chi volete che ne parli? Ne parlo con il dottor Umberto Carini, che è l'esperto di quelle che sono non soltanto le storie, ma anche le curiosità della Maremma. Ecco, mi fa piacere. Buonasera, dottor, perché abbiamo scelto un biscotto? Perché diciamo che in una terra di eccellenze gastronomiche come la Maremma, in cui abbiamo vini superiori, oli eccellenti, straordinari, formaggi o caci, come dice Argia. Fuori dal comune e nonché insaccati, eccetera. Diciamo, ho scelto di parlare di un prodotto che sembra di un prodotto minore, ma che racconta anche questo la storia delle nostre terre e dei nostri centri che si costellano la Maremma. E si parla appunto del biscotto salato, biscotto salato di Roccalbegna, biscotto salato dei paesi della montagna. Eccolo qua il primo piano, brava regia. E perché tanto si chiama biscotto, perché noi per il biscotto tendiamo qualcosa di dolce. Eh sì, certo. Biscotto perché è cotto due volte, vuol dire. Due volte, biscotto. Biscotto. E quindi ovviamente questa è la caratteristica di questo particolare piccolo prodotto che caratterizza un po' tutta la nostra terra. Veniva intanto, per prima cosa, chiamato in montagna il biscotto della sposa. Il biscotto della sposa. Della sposa, perché era rigorosamente tramandato dalla madre e dalla figlia, così come il mestolo di famiglia che serviva per prepararlo. E quindi aveva proprio una caratteristica familiare. Tant'è che questo bene prezioso della gastronomia veniva anche un po' bollato dalle singole famiglie con dei simboli di riconoscimento. Per esempio, una vecchia chiave di casa, non dico un sigillo perché mi sembra di parlare troppo in maniera troppo aulica, veniva insomma in qualche modo riconosciuto in maniera che quando i biscotti venivano cotti nel forno del paese, poi ritornavano al legittimo proprietario che l'aveva preparato. Così le singole massaie potevano vantarsi anche della loro caratteristica. Naturalmente le caratteristiche fondamentali erano sostanzialmente due. Era un preparato molto semplice, si basa sui prodotti principali del nostro territorio perché si basa su ingredienti che sono estremamente comuni da noi, l'olio, la farina, l'anice eccetera e diciamo che questi biscotti si facevano principalmente, erano destinati alle grandi occasioni come appunto i matrimoni per questo biscotto. La Pasqua, le feste, grandi feste. Le grandi feste. Io l'ho scoperto tardi devo dire. Quindi diciamo, come ripeto, era un biscotto che veniva molto croccante e profumato e si manteneva anche molto a lungo. Naturalmente la produzione, come dicevo, è un pochino caratteristica di tutti i paesi e i centri della miata, ma è andata progressivamente un pochino scomparendo, l'unico, uno dei paesi che ne ha fatto senz'altro un motivo importante di folclore e di tradizione gastronomica è il paese di Roccalbegna. Che bella Roccalbegna, eh? E quindi ecco che da Roccalbegna, dove parte anche una sagra del biscotto salato nel mese di agosto, poi è stata anche portata dai forni di Roccalbegna in tutti i centri. Per questo le troviamo... Ecco, abbiamo visto anche questa, la scoperta del 40esma sagra del biscotto salato. Questa era la cosa di quest'anno. Era di quest'anno. Agosto 2020. Proprio pochi giorni fa. Pochi giorni fa. E chiaramente è terminata. E richiama, richiama gente. Perché il biscotto piace, proprio piace. Piace. Ha un sapore particolare. E attira in maniera particolare. E quindi, diciamo, la caratteristica poi di questo biscotto è di avere questa forma un po' particolare a otto, anche un po' per dare un simbolo della fortuna e quindi ricordare anche in un certo senso la fortuna, eccetera. Diceva una forma a otto. A otto, sì. A otto. Per mettere in primo piano questa foto che vediamo. Ecco, questa. Sì, grazie. Così almeno la vediamo bene, eh? Quello che sta dicendo il dottor Carini. Dicevo, la caratteristica di questo biscotto, che addirittura, la cui ricetta si perde addirittura nel Medioevo, va bene? Accidenti. E' sempre stata, come familiare, estremamente la ricetta custodita, come si diceva prima, dalle donne. La farina, l'olio d'estravergine, i semi, il vino bianco e il sale, gli ingredienti disponibili più importanti, venivano, diciamo, preparati nei giorni precedenti alla festa e hanno la caratteristica, questo biscotto, di mantenersi, mantenere la sua fragranza e conservarsi anche a lungo. E quindi hanno la possibilità di essere anche consumati nelle settimane successive, durante la colazione, era tipica di Pasqua, oppure a fine pasto. E diciamo che questo biscotto, quindi, ha questa, diciamo, caratteristica particolare. Ho qui messo anche, nella prossima diapositiva, una ricetta di quelle più note per come fare a preparare il biscotto. Ora, questo naturalmente... Eccola qua, la lasciamo così, chi è a casa se la può vedere con calma, al tempo di lettura perlomeno. Sì, certo. La sera prima, va messa in infusione. Veniva comunque preparato tutto quanto l'impasto. I semi di anice si trovano normalmente, no? Sì, certo. All'erboristeria, dove si trova, insomma, eh? Certo. E quindi venivano fatti sciogliere il lievito di birra, eccetera, eccetera. Comunque qui c'è tutta la caratteristica del biscotto. E come dicevo, le due caratteristiche sono che l'impasto veniva dapprima lessato, cioè tuffato in acqua bollente, preparato e secondo le caratteristiche forma, e poi cotto nel forno. Per questo, dicevo, le due caratteristiche cotture del biscotto. E quindi diciamo che questo, diciamo, piccolo gioiello della nostra enogastronomia, che, diciamo, ci caratterizza un pochino... Mi sembra che non venga fatto a livello industriale, sono i forni che lo fanno, no? Sono i forni che lo fanno. Perché questa caratteristica c'è. Noi abbiamo dei biscotti in Maremma particolare che vengono fatti soltanto dagli artigiani, dai fornai, no? Precisamente. Dai produttori, quasi si tramandano, vorrei dire, da paese, da famiglie nei paesi e poi si allargano. Lei ha detto, ha parlato della miata in generale in questo caso. Ma anche a Massa Marittima, per esempio, ci sono delle tradizioni in quella zona là, insomma. E questo credo ci piacerà un pochino raccontarle via via le caratteristiche della nostra terra. Fermiamoci un attimo per il consueto stacco pubblicitario, ma ci vediamo immediatamente. Eccoci di nuovo con il dottor Carini, i nostri biscotti, le nostre tradizioni. Ecco che si arriva al paese che mi sta particolarmente a cuore, che è il paese di Montorgiali. È Montorgiali. Montorgiali è un piccolo borgo della Maremma. Lei è nato a Montorgiali? Il mio babbo è nato a Montorgiali. Il suo babbo? Sì, sì, è nato a Montorgiali. Noi avevamo la casa di famiglia, eccetera, eccetera, e purtroppo lì ci sono i miei genitori. Abbiamo raccontato le storie di Montorgiali, eh, dottor Carici? Diciamo che la caratteristica di questo piccolo borgo è che le sue origini sono citate addirittura all'incirca nel 1188, va bene? E la caratteristica particolare di questo paese è che nonostante la chiesa padronale sia dedicata, parrocchiale sia dedicata a San Biagio, però nelle sue vicinanze vi è un piccolo santuario dedicato a San Giorgio. Folclore vuole più San Giorgio che San Biagio. E a questo punto la festa che appunto caratterizza un momento particolare della storia di questo paese è la festa di San Giorgio. Ebbene, in questa occasione viene distribuito, eccoci ancora una volta, il biscotto salato. Ma che qua! Lei ha fatto tutta questa storia di San Biagio e San Giorgio perché poi il biscotto salato diventa proprio il biscotto di San Giorgio. Sì, e ora ne parleremo facendo un piccolo riferimento storico, tanto per inquadrarsi. Montorgiali non è ormai quel piccolo gruppo di case ridotta a poche decine di unità di persone. Nel 1400 aveva formulato una serie di statuti autonomi della comunità, era quindi un comune, è stato un comune. Nel 1615 Scanzano passa dagli sforzi ai medici, con il grande stato di Toscana. E quindi nel 1726, quindi in tempi ancora più recenti, il comune di Montorgiali passa sotto Scanzano. Fino ad allora Montorgiali faceva comune, va bene, autonomo. Quanti abitanti farà oggi Montorgiali? Ma oggi ne farà 100, ma se ne fa. No, davvero? Sì, sì. C'è un piccolo ripresa nella comunità, perché come tutti i piccoli centri, le case non hanno nessun valore, quindi riescono a trovare... Io ho degli amici che mi hanno detto, ti voglio portare a mangiare a Montorgiali, insomma, voglio dire, ci sono anche dei richiami, no? Ci sono anche dei richiami, ci sono anche delle locande, che importanti sono... E tutto questo mi serve per portarvi a questo documento che io ho ritrovato, è un documento del 1619. E lo facciamo vedere proprio in primo piano. La terra di Montorgiali, che è registrata proprio dal pievano del paese, va bene? Che si chiamava Adamo Angelini Cialini. E questo documento è particolarmente interessante, perché oltre a parlare della terra dei Montorgiali, come ripeto, dal 1600 fino all'800, naturalmente viene a raccontarci varie situazioni, vicende e famiglie del paese. E naturalmente in mezzo, tra le righe di questo particolarissimo documento, c'è, avanti con la prossima, la festa di San Giorgio. Quindi la festa di San Giorgio che già risale a metà al 600. E a questo proposito, quando parla della festa di San Giorgio, naturalmente lei ha già capito dove voglia andare a finire, diciamo, quando parla della festa di San Giorgio, naturalmente parla del periodo in cui era comune, e quindi aveva dei fondi autonomi, eccetera, e poteva fare, preparare due moggia di pane per i poveri e per gli abitanti del paese. E poi aveva anche un particolare anello e sigillo con cui caratterizzava le proprie, diciamo, particolarità culinarie, in cui si era raffigurato naturalmente San Giorgio e il Drago. Bene, in questa comunità venivano scelte un gruppo di persone che si chiamavano Festaioli, e che si accollavano, chiaramente, con il fiocchino, per riconoscerli. La spesa della festa. In questa occasione dovevano preparare sia i pranzi e le cene per i partecipanti alla festa, ma preparavano anche, perché no, il famoso biscotto di San Giorgio. E quindi già dal 600 è testimoniata la presenza di questo biscotto di San Giorgio. E oltre al biscotto di San Giorgio c'erano anche altri tipi di biscotti che venivano fatti, che si chiamavano Corolli, Fioretti, Melatelli. Anche questi sono biscotti estremamente noti. Senta, dottor Carini, lei è una persona molto aperta, però anche un po' campanilista, mi sembra. Un pochetto. Un pochetto. Sta togliendo a Rocca al Begna quasi quasi. No, no, ora farò vedere che c'è una differenza. Sì, sì, è il discorso del panforte del corsino, insomma, voglio dire. Perché, secondo lei, insomma, Montorgiali ha una tradizione del biscotto salato, è la più longeva da noi. Senz'altro una delle più longeve, riconosciuta. E chiaramente, tralasciando tutto il discorso della festa, eccetera, eccetera, si arriva in tempi relativamente recenti, 1818, quando il comune non è più sotto Scanzano, Montorgiali, non ha più fondi, la parrocchia è relativamente povera, ed ecco che nel 1818 il nuovo parroco decide di abolire sia le feste, sia le cene, sia tutti i particolari... A parlare, annacquare San Giorgio. Sì, annacquare San Giorgio. Quindi non si dovessero più fare altre cose, i fioretti, i meletelli, ma che si doveva lasciare il rinfresco al solo biscotto salato. Quindi il biscotto salato rimaneva l'unico rappresentante dell'espressione della festa, la pressione culinaria e gastronomica della festa di San Giorgio. E anche oggi c'è qualcuno che lo fa lì? Anche oggi la tradizione porta come espressione, diciamo, sempre quella del biscotto salato. Eccolo, l'attuale... Maria Mazzuoli. Una delle attuali protagoniste del biscotto. Ma qual è la differenza tra questo biscotto salato, il cui impasto è del tutto analogo a quello di Roccalbegna, e il biscotto di Roccalbegna, la forma A8, si sapeva, che qui non è mantenuta. Come vedete, qui è una forma particolarmente varia, strana, e come vedete, anche questa è una forma, diciamo, a strisce, perché anche queste sono delle strisce. Sì, ma è doppia. Sì, formato come una specie di grata. Sì, una grata. Invece l'idea che mi ha dato è quella. E lo sa perché questo succede? Perché i cavalieri di San Giorgio, cioè quelli che venivano alla cavalcata, potevano infilare la mano dentro questi grandi panieri dove c'era il biscotto, e quanti ne riuscivano ad rafferrare con le dita e potevano prenderli. Quindi quelli sono nove, buchi. E quindi chiaramente uno poteva infilare la mano dentro e prendere quanti più biscotti poteva e che se ne faceva suoi. Eh, queste sono le cose. Caratteristiche. Veramente, veramente caratteristiche. È graziosissima. Sì, è assolutamente particolare. Poi per noi che siamo degli amanti delle tradizioni popolari, La nostra cultura affonda in queste cose. In questo, quindi noi chiaramente non possiamo... Infatti come punto di riferimento abbiamo Don Franco. Abbiamo Don Franco al quale abbiamo dedicato anche una bella festa, proprio come associazione, perché Don Franco è una miniera. Non è una miniera, detto così sembra strano, perché lui e la miniera hanno un rapporto particolare, figlio di un minatore. Ma io tendevo a dire che è anche una miniera di notizie, di curiosità, di saperi, di tradizioni orali, che senza di lui o senza di lei anche, io glielo riconosco questo... Quando facciamo le feste che lei legge i proverbi, certe cose, certi modi di dire, certe abitudini, certe usanze, e questo significa non voler perdere le nostre radici, la nostra cultura e io ritengo che sia fondamentale questo. Don Franco ha finito 97 anni, io lo chiamerò anche nei prossimi giorni, perché siamo d'accordo, ora ha bisogno un po' con questa estate calda di riprendersi un po', ma poi parleremo di tanti argomenti nelle nostre rubriche. È il cui unico che mi racconterà, per bene anche del Palazzo dei Priori, quando è arrivato a Grosseto non ce l'ha più trovato. Insomma, tante cose che lui ricorda benissimo e che noi non possiamo permetterci di perdere. È vero? Infatti. Volevo terminare proprio con un riconoscimento per uno dei nostri grandi poeti popolari del passato, e che, come i nostri poeti estemporani, canta in ottava rima, va bene? Quindi, che io non saprò assolutamente rifare, quindi non lo farò, non abbiate paura, perché non sono assolutamente in grado. Ma io ho visto la firma, lui lo sapeva far bene. Lui lo sapeva far bene, era Francesco Benelli, che dedica... Fratello di Elidio Benelli, ha capito. E lui dedica una delle sue ottave alla festa di San Giorgio a Montorgiali. Io ve la semplicemente leggo per non... Se c'era Mauro gli si faceva cantare. Giorgio a Montorgiali che è il patrono... Ecco, questa era il via. In mezzo alla natura e tanti fiori retta da proprietari e dal colono, gran festa e ritrovi tra i migliori. Antichi personaggi resse il trono, umili, onesti e collaboratori, il 23 d'aprile fanno la festa con buon accordo della gente onesta. E termina dicendo... Per usanza di vecchio calendario fanno ritorno in piazza a Montorgiali col cavallo vivace o pubbonario accompagnati da canti musicali. Biscotti di San Giorgio a tipo vario offerte a tutti con vidi locali. Poi la benedizione dei cavalli e in pomeriggio le corse, suoni e balli. Francesco, altro personaggio, che io vorrei un giorno... Anzi, ve lo prometto fin da questo momento, chiamerò Mauro Checchi e Corrado Barontini e faremo un ricordo di Elidio e Francesco Benelli, perché se lo meritano. Io credo l'abbiamo fatto di Eugenino, Bargagli per esempio, Morbello Vergari lo abbiamo nominato in tutte le occasioni, perché meritava veramente questo. E poi insomma tanti tanti altri. Però io credo che i fratelli Benelli meritino un ricordo, ora a distanza proprio, perché hanno lasciato veramente una traccia, un segno. Credo che sia importante riprendere anche, come noi stiamo facendo da tempo, la cultura popolare, perché la cultura popolare è espressione, anche questa ovviamente, della storia di un territorio. Come abbiamo visto, noi abbiamo trovato riferimenti della vita di un popolo che risalgono dal Seicento e dal Seicento sono portati fino ai giorni nostri e sono cantati proprio dai menestrelli della cultura popolare. Eh sì. E credo che sia fondamentale quindi mantenere questo tipo di... Certo, io a lei la devo ringraziare poi anche per un altro motivo, non è la giornata del ringraziamento, eh, questa qui è già... Però, voglio dire, mi sembra importante perché si è stabilito una continuità. Lei ci ha sempre garantito, non so per quale motivo, non gliel'ho neanche mai chiesto, però, la presenza alle nostre ultime manifestazioni di Stefano Dori, un ragazzo che a me ha colpito, ha colpito per la sua preparazione, per essere un artista veramente così giovane, di valore, per avere questa capacità creativa straordinaria. e quando parliamo noi di Ottavarima, di poeti estemporanei, parliamo di improvvisazione. E quindi, quando diciamo che rappresenta la continuità di una tradizione, siamo proprio nel giusto, perché avete sentito anche la festa che abbiamo fatto in piazza per Don Franco, Stefano Dori ha cantato delle cose straordinarie, rivolgendosi al pubblico e finendo sempre con quell'omaggio a Don Franco. insomma, veramente un artista straordinario, grossetano. Insomma, io sono orgoglioso di averlo presentato spesso e volte. Quello che mi fa piacere è le parole che mi ha detto l'ultima volta, proprio in occasione dell'11 d'agosto, in cui mi ha detto io vengo volentieri perché ho l'amore per la mia terra, l'amore per la Maremma. E quindi l'amore per la mia terra mi porta a raccontare con il mio linguaggio, che è un linguaggio giovanile, un linguaggio particolare, sempre la storia della terra e cantare, quindi la propria terra credo che sia sempre importante. Dottor Carini, viva il biscotto Maremmano, viva il biscotto Maremmano, viva la tradizione. Assolutamente sì. Non perdiamolo il biscotto perché anche questo fa parte naturalmente della nostra tradizione. Io la ringrazio anche perché insomma lei è un fenomeno, riesce a saltare da un argomento, si parla da Paciardi, si va a finire al biscotto e chissà dove andremo a cadere la prossima volta. Ma sicuramente non so dove cadremo, ma so che sarà un altro argomento interessante. Io credo che la curiosità e l'amore per la terra, per la propria terra, sono gli elementi che ci portano un pochino ad andare a cercare. Certo, l'ha detto lei. Io la ringrazio di nuovo, veramente di cuore, ma ringrazio soprattutto voi gentili telespettatori per averci seguito. Alla prossima, buonasera. Grazie a tutti. Grazie a tutti.